Ciao a tutti ragazzi e bentorni sul canale, come va? Spero che state bene e che stai trascorrendo una splendida giornata. Nel video di ieri dove vi ho fatto un recap generale della situazione attuale del Torino, ovviamente in argomento mercato, vi ho detto che avrei realizzato oggi un video su Luis Enrique, uno dei tanti nomi che sono entrati nella rosa di Granata per quanto riguarda la posizione della tre quarti, quindi in questo video andremo a vedere esattamente com'è il giocatore, quindi ve lo andrò a presentare, lo andremo a contestualizzare in un'ottica Torino e faremo un pochino un'analisi della situazione però prima di iniziare il video, quindi scendere nei dettagli, mi raccomando come sempre di lasciare un like al video, di iscrivervi al canale e di attivare i campioni di notifiche, per esempio aggiornati in tempo reale sui contenuti che vado a pubblicare, mi raccomando qui sotto l'infobox trovate il link al mio gruppo Telegram dove si va di calcio a 360 gradi, senza colore di maglie, senza bandiera, quindi passatemi a trovare, ma chi è questo Luis Enrique? È un'ala sinistra classe 2001, esattamente diciamo 2001, quindi quasi un 2002, di piede destro, quindi appunto gioca a piedi invertito, un giocatore cresciuto nel Trespassos, poi un presto biennale al Botafogo e nel 2020 il trasferimento a titolo definitivo al Marsiglia per ben 8 milioni di euro, un giocatore che in questi anni ha giocato anche abbastanza, però non tantissimo, nel senso che non è mai entrato nella rosa dei titolarissimi del Marsiglia, un giocatore appunto classe 2001, 181 cm per lui, che ha giocato su entrambe le fasce, sia in un 4x3, quindi sia come la destra che la sinistra, e attenzione anche come centrocampista, di sinistra o di destra in un 3x421, lui prevalentemente è appunto una sinistra che ama giocare a piedi invertito, a centrarsi e tentare la giocata, un giocatore fisicamente robusto, 181 cm, che soprattutto dal bacino in giù mi ricorda in parte Hulk, quindi quadricipiti ben formati, polpacci ben formati, dei glutei anche abbastanza ben formati e che tendono un po' lì in fuori, e che gli conferiscono quella corsa con il bacino indietro e il petto in fuori, una corsa fatta di falcate anche abbastanza lunghe, diciamo di ampiezza, con una buona frequenza, però è veramente veloce, sia sul breve che sul lungo, appunto per questa esplosività muscolare che già nei primi passi, bam, ti frega l'avversario. Un giocatore che è anche ben piazzato a livello fisico nella parte superiore, però la sua forza fondamentalmente appunto sono gli arti inferiori. Un giocatore che sa giocare sia di destro che col sinistro, anche se lui appunto è un destro naturale, però anche in conduzione palla o in fase di cross sa usare bene tutti i due piedi, quindi che succede? Anche se gioca a piedi invertito, quindi sulla fascia sinistra, non dà punti di riferimento, perché magari si pone col corpo in un modo, ti cambia giocata e ti va sul fondo, quando magari il difensore si aspetta che va, vada a rientrare sul campo, quindi sono su piede forte. È un giocatore interessante che secondo me deve ancora sbocciare. La scorsa stagione, quella appena finita, 25 partite in tutte le competizioni, un gol e un assist, ma non è mai stato un giocatore molto prolifico da questo punto di vista. Contestualizzati in ottica Torino, secondo me verrebbe preso per fare il tequartista, uno dei due. Certo, sarebbe da lavorarci, perché lui sarebbe un più un tequartista alla Brecalo, quindi un'ala che dovrebbe giocare un po' più accentrata. E appunto su questo tipo di posizioni in campo devono appunto lavorarci, perché il suo istinto è altro. Non è quello di stare proprio fisso un po' più all'interno del campo per dare spazio all'esterno-sinistro, in questo caso, del centrocampo a quattro di Uric. Però, ripeto, ha tanti immagini di miglioramento. E non solo. Lui ha giocato appunto come esterno-sinistro o destro in un 3-4-2-1. Non sempre. Però in parte potrebbe fare il percorso di Berenguer, se ve lo ricordate. Solo che Berenguer era più veramente un'ala proprio offensiva. Lui ha giocato un po' più anche del centrocampista. Quindi, certo, lui si dice che non ha quelle abilità difensive, ma contestualizzato in una difesa in fase di non possesso a 5, potrebbe magari dire la sua, soprattutto perché ha capacità aerobiche eccezionali. Sicuramente da migliorare sono i numeri in fase offensiva, in fase di assist, perché un esterno, un trequartista, che in due stagioni magari mi mette a segno 2-3 gol e 3-4 assist, o 5-6 assist, lo reputo un po' pochino. Da vedere la votazione che farebbe il Marsiglia, che farebbe il Marsiglia sul giocatore, ma secondo me in una formula tipo Brecalo potrebbe, i due club potrebbero trovare un accordo. Certo, il prezzo deve essere già dall'inizio ipoteticamente spendibile per il Torino. Non che poi magari metto la clausola a 15 milioni e come sempre a gennaio lo riscatteremo e poi si arriva a maggio, ragazzi non abbiamo i soldi e non possiamo pagarlo. Quindi che si metta da subito eventualmente un prezzo fair, un prezzo fattibile. Nonostante però vi ho detto che ha grandi capacità aerobiche, ottima visione di gioco, bravo nella ripartenza, tenta molto la giocata e ha una caratteristica, è sfrontato e tenta l'uno contro uno. Il problema degli esterni moderni, sia d'attacco che di centrocampo, non tentano l'uno contro uno. Perché vanno i moderni quadrado? No? O meglio, vanno ancora i quadrado. O i moderni costici. Perché ti affrontano uno contro uno. Sono sfrontati, hanno, sanno, conoscono il loro valore, sanno i loro punti di forza e va ai dribbling, te lo tentano. Poi ripeto, Luis Enrique è destro ma sa giocare con i due piedi, quindi anche da questo punto di vista è interessante. Tende anche molto la giocata. È uno che nella sua gioventù, tenta magari il sombrero in fase di partenza, tenta il tacco, prova la giocata. Quindi è un qualcosa che Juric deve far crescere, dovrebbe far crescere. Ma nonostante appunto i numeri, come vi abbia già detto, non sono dalla sua parte, penso che potrebbe essere il profilo ideale per Juric. Perché è un profilo da far crescere, da contestualizzare. Un classico profilo che tu magari non prendi un prezzo altissimo, ma che grazie al lavoro di tattica, ma senza far perdergli insomma quel filo distinto che fa parte appunto il giocatore, può crescere tanto. E ripeto, se grazie al lavoro di Juric potrebbe mettere insieme quei 3-4 gol a campionato in più, quei 5-6 assist in più, beh ragazzi, magari con un centrocampista un po' più, un trequartista un po' più tattico, e magari un attaccante un po' più in movimento, lui è bravo stesso lungo che sul corto a giocare appunto con i passaggi, potrebbe crescere. Secondo me avrebbe dei grandi margini di sviluppo. Ma ripeto, tutto sta nel fatto del, o meglio, sta nell'Olympique Marsiglia del prezzo che la società francese chiederebbe al Torino, e soprattutto la formula. Perché magari può darsi che il Marsiglia dica, ok, a me sarebbe valorizzarlo, te lo mando al Toro per un anno, ti do il diritto, o magari l'obbligo, il diritto di riscatto e di contro riscatto, e così il Torino non ha più quel controllo al 100% anche del futuro del calciatore, quindi anche questo lato va valutato. Ma ripeto, numeri non dalla sua, potenzialità dalla sua, e istintivamente mi sento di dire che se questo qui va a Torino, potrebbe fare ottime cose. Il giocatore che era stato anche offerto alla Lazio, attenzione, in cerca di stand, anche lei. Quindi, anche questa pista è da seguire. Mi raccomando, se volete un recap generale delle soluzioni del Torino, guardate il video che ho realizzato ieri, nel pomeriggio, dove vi faccio appunto un recap. Se il video vi è piaciuto, lasciate di solito like, iscrizione e attivate la campanella in linea, e passatemi a trovare sul gruppo Telegram, qui sotto in info box, trovate il link. Vi mando un abbraccione, ciao al prossimo video. Ciao ragazzi.